Storie di adolescenti, in fuga dalla guerra o al centro di gravi episodi di cronaca, ragazzini fermati dai carabinieri del comando provinciale di Monza negli ultimi giorni, in circostanze diverse. L'ultimo episodio nelle scorse ore. Nei guai un quattordicenne della zona di Vimercate andava a scuola in un istituto di Seregno con un coltello a serramanico lungo 20 centimetri. In più di un'occasione lo avrebbe mostrato i compagni. Con l'aiuto e la collaborazione degli insegnanti, i militari hanno organizzato un controllo in borghese, invitando il ragazzino nell'ufficio del preside. Ha provato a negare, ma ha agganciato ai pantaloni, aveva il coltello e è stato denunciato per il porto abusivo d'arma. E sempre a Seregno, uno studente di 15 anni è stato sorpreso a spacciare davanti alla sua scuola. Alla vista dei carabinieri l'adolescente ha tentato di buttare la droga in una siepe, ma aveva ancora le mani sporche di resina marrone dal forte odore di hashish. In tasca ha una bustina con 5 grammi di fumo e 60 euro in banconote di taglio piccolo, il suo probabile guadagno della mattina. Infine un altro ragazzino, ma qui la storia è diversa. Viaggiava insieme tra adulti, tutti afghani come lui, su un camion proveniente dalla Romania. Nascosto tra decine di pneumatici per raggiungere l'Italia, il conducente del veicolo poco prima dell'arrivo a Villa Santa ha sentito dei rumori provenire dall'interno del rimorchio, dove erano accatastate le gomme, e ha chiesto l'intervento dei carabinieri. All'interno del cassone erano nascosti quattro profughi. Dopo aver sottoposto tutti a un tampone e risultato negativo, i quattro sono stati accompagnati in caserma per l'identificazione.